così come è successo tempo fa per l'attentato a parigi anche oggi voglio spendere qualche parola sull'attentato a brussella fermo restando che qualcosa c'è stato perché ho amici a brussella mi hanno confermato che c'è stato il caos dovuto a qualcosa rimane il fatto che c'è anche in questo caso qualcosina di strano ma più che spiegartelo io voglio mettere in moto le tue capacità di osservazione qui davanti a te vedi due fotogrammi di due video diversi uno dell'attentato accaduto a brussella il 22 marzo e l'altro accaduto nel gennaio 2011 all'aeroporto di mosca poi vedrai i video completi questo video è quello che sta andando in giro e che è andato in giro su sky tg 24 il giorno 22 marzo quindi appena proprio ultima ora eccolo qui sono stati tutti i sospesi voli quindi questo è stato il primo video trasmesso questo invece è un video che si trova tranquillamente online se si cerca l'attentato all'aeroporto di mosca il gennaio 11 ci sono decine di video che si possono tranquillamente trovare online e fare le proprie osservazioni da notare che questo è il video di sorveglianza di una telecamera a colori tra l'altro dell'aeroporto questo video è praticamente lo stesso semplicemente tagliato nella parte superiore e peggiorato come qualità facciamo finta per un attimo di fare quel giochino della settimana enigmistica dove dobbiamo scoprire le differenze bene abbiamo una persona ferma abbiamo una persona con un trolley abbiamo un gruppo di tre persone con un trolley abbastanza grande una borsa sopra abbiamo una persona appoggiata al muro abbiamo una persona appoggiata al muro abbiamo una persona qui con un altro carrello quissà cosa che si vede anche qui perfettamente abbiamo due persone con un altro trolley e un'altra persona con la borsa qui che si vedono ovvero due persone con un trolley e una persona con una borsa che si vede ora adesso il dubbio che mi viene è o i due aeroporti sono esattamente uguali e le persone per chissà quale strano motivo si sono sincronizzate nella stessa maniera che è accaduto nel 2011 a mosca oppure questi due fotogrammi sono perfettamente uguali inutile dire che la posizione delle finestre la posizione degli ingressi la posizione di tutto è tutto perfettamente uguale potrei quasi dire senza ombra di dubbio che questi due fotogrammi sono dello stesso video peccato che questo video è stato girato e si trova online dal 2011 all'attentato di mosca che se non ricordo male fu rivendicato dai ceceni quest'altro video è quello che viene immediatamente mandato online da sky tg24 ma sentiamo adesso cosa riesce a dire sky tg24 su un video girato a mosca nel 2011 addirittura fanno osservazioni quasi come se avessero addirittura visto il terrorista guardiamolo assieme è stato l'uomo che coordinava l'attacco dei kamikaze parigini se questo fosse confermato è chiaramente l'artificiere l'uomo più ricercato era l'uomo che tesseva la rete che poi ha portato alla morte a parigi è l'uomo più ricercato del momento in questo alberto roberto riguardando il video guarda sembra un uomo che si avvicina in alto a destra al desk e poi c'è l'esplosione così è esattamente quello che vedevamo prima come se effettivamente si potesse ipotizzare a un attentatore suicida magari con una cintura guarda è vestito di nero proprio in alto si vede in lì si vedrà il corpo e poi dopo si vede eccolo qui si peraltro appunto media belgi riportano che prima delle esplosioni una persona avrebbe urlato in arabo e poi riportano sparato insomma possiamo solamente ipotizzare ho sparato appunto un kamikaze che si è fatto esplodere davanti al al desk dell'american airlines marco per il momento ti ringraziamo magari ti disturberemo più tardi grazie 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 a marco zatterin della stampa testimone oculare mentre continuiamo a vedere questo russia business air hub rocked by an explosion chaos blood smoke and death in the international arrival section domandate of a quickly swarming with police officers special security forces and paramedics investigation almost immediately focusing on one theory quando vedo queste cose una domanda mi sorge spontanea ma prendono in giro anche i giornalisti o i giornalisti sono d'accordo e prendono in giro soltanto noi poveri umani della popolazione mondiale dall'alto della mia ignoranza posso supporre che i video che vengono inviati immediatamente in tempo reale attraverso le aziende di diffusione di informazione come possono essere ansa routers eccetera vengono scelti da chissà chi e poi questi video vengono messi in pasto ai giornalisti che fanno le loro supposizioni addirittura vedono attentatori riescono a vedere cose che neanche le telecamere vedono però i giornalisti dopo tutto devono fare notizie il loro lavoro e vengono pagati per questo questo dubbio è la mia enorme curiosità mi ha permesso di fare qualche altra ricerca e ho trovato online alcuni articoli di qualche mese fa di alcuni magazine del belgio direttamente e una cosa interessante che ho trovato è sulle suar un articolo del 24 novembre 2015 dove si diceva che a causa della minaccia terroristica a bruxelles veniva prevista un'esercitazione all'interno della metropolitana che avrebbe interessato 200 figuranti un'esercitazione di una di un teorico attentato questo è l'articolo in francese che possiamo velocemente tradurre su google ovviamente con i limiti di google che ci dice che l'infrastruttura ferroviaria annuncia il rinvio della messa in servizio del tunnel schumann josa fatta prevista per il 13 dicembre si tratta di un risultato indiretto della minaccia terroristica prima della messa in funzione hanno organizzato una grande esercitazione disastro quindi che riunirà 200 extra in realtà sono 200 figuranti quindi attori al fine di testare dispositivi di sicurezza questa esercitazione era prevista per il 9 aprile 2016 ovvero tra qualche giorno praticamente perché l'attentato è accaduto il 22 marzo il 9 aprile guarda caso c'era ci sarebbe dovuta essere questa esercitazione allora non contento sono andato a cercarmi qualcos'altro e ho trovato quest'altro magazine sempre del belgio dove ci dice che ci sono state ben 300 persone che hanno partecipato all'esercitazione di sicurezza nel tunnel schumann josa ha fatto lo stesso di prima quindi probabilmente l'hanno anticipato andiamo a vedere cosa ci dice il magazine belga ci dice che la gestione di infrastrutture ferroviarie nella notte tra giovedì e venerdì del 26 febbraio che è venerdì quindi il giorno prima praticamente quindi tra il 25 e il 26 febbraio a mezzanotte a mezzanotte le 4 del mattino c'è stata un'esercitazione di sicurezza nel tunnel schumann josa fa questa simulazione è stata effettuata in presenza dei ministri bla 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 l'obiettivo era quello di testare la sicurezza del tunnel eccetera eccetera oltre 300 persone sono state mobilitate e 150 figuranti un centinaio di membri della sicurezza dei servizi di sicurezza e una cinquantia di persone per l'inquadramento credo comunque insomma 300 persone tra figuranti e sicurezza hanno partecipato a questa esercitazione esercitazione che è accaduta poco meno di un mese prima dell'attentato quindi il 25 febbraio 2016 di cui abbiamo anche un bel video esercitazione catastrofe tunnel schumann josa fa e a questo punto mi sono chiesto chissà in quale tratto della metropolitana sarà scoppiata la bomba o sarà stato fatto questo attentato di brussell del 22 marzo e andando un po in giro trovo il fatto quotidiano che ci dice che un'ora dopo l'esplosione in aeroporto sono scoppiati degli ordini metropolitana guarda caso tra le stazioni di melbeck e schumann schumann è esattamente la stazione dove è stata fatta neanche un mese prima l'esercitazione che ha impegnato 300 persone per fare questo test e di cui c'è questo video ovviamente anche questo può essere un caso di sicuro grazie all'esercitazione di un mese prima esattamente nello stesso tratto ferroviario sono state raccolte moltissime fotografie e video che all'occorrenza potrebbero sempre tornare utili ma spero che non sia questo il caso vorrei chiudere questo breve video facendo due appelli uno ai giornalisti e uno a tutti voi ai giornalisti consiglierei prima di diffondere pubblicare determinate cose di fare un giro su google su youtube e su qualche altro sito di informazione e magari accertarsi prima che i video che stanno inviando alla gente attraverso dei mass media sono reali e non sono riciclati invece a voi visitatori di questo video chiedo di farlo conoscere di condividerlo di mandarlo in giro di farlo vedere ai vostri amici di diventare voi per primi un mezzo di diffusione di informazioni che possano mettere un dubbio che possano far riflettere che possano dare la possibilità alla gente di crearsi una propria opinione e non soltanto di prendere per buono tutto ciò che ci viene propinato da giornalisti che probabilmente voglio sperare vengono presi in giro loro per primi grazie per la visione e per la condivisione che saprei dargli